Intanto l'importanza dei dati che la Camera di Commercio ha a disposizione, perché noi, intanto il nostro nome vero è Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e raccogliamo appunto i dati per legge, siamo i depositari dei dati di tutte le imprese del Torinese. Questa è un'enorme massa di informazione che molto spesso non è. Uno conosciuta e due si fatica a mettere a disposizione. Con l'accordo di oggi mettiamo a disposizione questi dati in un formato leggibile e consultabile attraverso una piattaforma realizzata ad hoc e li incrociamo anche con i dati dell'Inps. Quindi saranno collegati non soltanto i dati delle imprese ma anche i dati dei dipendenti. Quindi una forma per leggere, una forma utile e semplice per leggere i dati del territorio e magari impostare, studiare politiche sull'occupazione, sullo sviluppo e quant'altro. È un primo passo perché firmiamo con CGL l'accordo di oggi, ma è appunto un accordo aperto a cui potranno aderire anche altre sigle sindacali, ma anche le associazioni datoriali. Intanto è una fotografia complicata, nel senso che sono molte le imprese, sono molti gli occupati, distribuiti in maniera diversa. Diciamo non negativissima da una prima lettura, anche se i dati sono fermi al terzo trimestre. Grazie.